Non poteva non saltare sopra la polemica del giorno, ovvero il caso Pandoro di Chiara Ferreni Che tiene banco da alcuni giorni e che ieri ha visto l'influencer chiedere scusa e annunciare che avrebbe donato un milione di euro per fare ammenda dell'errore commesso Che tiene banco da alcuni giorni e che ieri ha visto l'influencer chiedere scusa e annunciare che avrebbe donato un milione di euro per fare ammenda dell'errore commesso Lei si scusa, ho sbagliato, dono un milione al regina Margherita Comunque è cosa buona Tra l'altro c'è già pronto il documentario sulla vicenda, se lo stanno litigando Prime e Disney mentre Rayplay non ce la fa con i soldi Il titolo c'è già, è Assegnez Anche il Kodakons ha fatto un pandoro, al posto dei canditi a tutti gli esposti fatti ai Ferragnez Fiorello però ha anche spezzato una lancia nei confronti di Ferragni, è così, se stai sul web prima o poi una cacchina si pesta, anche io ne ho testate alcune e sono convinto che continuerò a sbagliare, sdrammatizza Fiorello Sono errori, certo questo è un errorone perché la beneficenza è una cosa delicata Ma dagli errori si impara, non si smette mai di diventare adulti Un post condiviso da Viva Radio Chiocciola Viva Radio